autogold.it cosa si può fare per consumare meno gasolio meno benzina meno carburante ci sono molti accorgimenti chimici che si possono avere per consumare di meno a partire innanzitutto da una ottimale manutenzione del veicolo magari un tagliando completo una volta all'anno magari ogni 18 mesi quindi un bel cambio olio con pulizia interna del motore utilizzate utilizzate oli di alta qualità con ottime performance antiattrito e utilizzate magari anche additivi antiattrito perché sono molto utili per rendere più sciolta efficiente la meccanica meno attriti ci sono meno ci sono sforzi meccanici più quindi è necessario meno cioè necessario utilizzare per così dire carburante quindi più la meccanica è sciolta meno il motore è affamato di carburante è un concetto abbastanza semplice ma non non sempre è chiaro a tutti gli automobilisti quindi più la meccanica efficiente ben mantenuta sciolta protetta dal punto di vista sia per quanto riguarda il motore la trasmissione il radiatore eccetera più il motore è così economico dal punto di vista del consumo di carburante quindi un'ottimale manutenzione è il primo elemento per consumare meno naturalmente è molto importante anche che gli pneumatici siano efficienti che non siano usurati quindi che abbiano anche la giusta pressione quindi controllateli con una certa frequenza magari una volta al mese ecco controllate lo stato se non lo stato delle gomme quantomeno la pressione delle gomme le gomme molto importante che abbiano un ottimo stato sia per l'efficienza ma soprattutto anche per la sicurezza quindi in generale quando il veicolo sta bene ben tenuto ben mantenuto è lì che sia la massima efficienza il massimo risparmio energetico ci sono attualmente dei limiti per così dire abbastanza irrazionali per esempio limiti di 30 km orari in alcune città sono comparsi questi limiti ecco un limite del genere fa consumare di più fa inquinare di più per quale motivo innanzitutto con un limite così basso il veicolo sta sempre tra prima e seconda marcia e soprattutto con una velocità così bassa non si riesce a sfruttare l'inerzia dovuta a un minimo diciamo così di velocità del veicolo quindi non c'è inerzia del veicolo e quindi si va a consumare di più perché il veicolo sostanzialmente è sempre in accelerazione tra prima e seconda marcia comunque in generale con marce molto corte per cui è sempre in uno sforzo per così dire importante il motore per cui è necessario sempre una diciamo un consumo c'è sempre una una spinta dal punto di vista del consumo di carburante molto importante ecco quindi un limite di 30 km orari in strade magari scorrevoli in cui si potrebbe tranquillamente andare almeno a 50 all'ora sicuramente un limite del genere fa consumare di più e fa inquinare di più quindi i limiti di 30 all'ora sono assolutamente irrazionali salvo naturalmente che non si tratti di strade molto piccole cittadine nel centro dove ovviamente è necessario per la sicurezza un limite del genere ma su strade cittadine normali magari a 3 4 corsia avere un limite di 30 all'ora dove naturalmente il veicolo potrebbe andare in terza quarta marcia slanciato intorno ai 50 all'ora ecco che un limite di 30 all'ora sortisce l'effetto contrario cioè più inquinamento più particolato più emissioni tornando per quanto si può fare dal punto di vista individuale ecco come dicevamo un'ottimale manutenzione del veicolo soprattutto dal punto di vista chimico è fondamentale oli di alta qualità additivi di alta qualità mantenete pulito anche il sistema di iniezione quindi utilizzate un buon pulitore iniettori almeno un paio di volte all'anno il radiatore pure importante che sia efficiente perché più diciamo efficiente il sistema di raffreddamento più il motore è affidabile efficiente per qualsiasi necessità di consigli specifici per il vostro veicolo che sia un auto una moto un camper un camion o un'imbarcazione o un autobus insomma qualsiasi veicolo potete contattarci e volentieri vi daremo tutte le indicazioni utili per una ottimale manutenzione del vostro veicolo un saluto a tutti da autogold.it centinaia di prodotti chimici tassativamente di alta qualità speriamo in tutta italia e in tutta l'unione europea